Ho consegnato oggi un dono da parte della Fondazione Comunitaria del VCO, in particolare all'Anfas. Sono con il Presidente della Fondazione, Maurizio De Paoli, quindi cosa avete donato? Abbiamo donato una parte di questo pulmino perché si tratta di un contributo pari al 60% del suo costo. Faceva parte di un bando fatto nel 2015 che prevedeva il nostro contributo per una serie di automezzi al servizio del volontariato. E diciamo che sono particolarmente contento quando partecipo a queste manifestazioni perché sono il modo migliore per rispondere a una domanda che spesso mi fanno. Mi chiedono che cosa fa la Fondazione Comunitaria e questo è quello che fa la Fondazione Comunitaria. Aiuta il mondo del volontariato nei suoi bisogni fondamentali, il trasporto, le attrezzature, ciò che serve per assistere gli anziani e i disabili. Quindi diciamo che per me è sempre una bella occasione questa. Ecco, in particolare quindi il contributo di quanto è stato? E' stato in questo caso di 15.000 euro perché quel bando prevedeva un contributo pari fino a un massimo del 60% del costo, non oltre 15.000 euro. Ecco, quindi si tratta di un pulmino di quanti posti? Questo è un pulmino di 9 posti che servirà all'Anfas per il trasporto dei disabili giornalieri dalle loro residenze a questa serie.